Ciao a tutti bentornati sul mio canale video decorazione agenda settimana numero 2 quella che va dall'8 al 14 di gennaio spostiamoci sulla scrivania iniziamo la decorazione allora stavolta iniziamo con lo washi e metterò questo come salvabuchi questo che era della recollection e sempre della recollection questo per dividere i giorni ora andiamo a creare appunto lo spazio per scrivere i giorni allora io stavolta voglio utilizzare queste cornicette quindi metterò questa qui e i giorni della settimana li scrivo con questi utilizzo l'inchiostro sui toni del rosa inizio ora vado con l'altro foglio anche qui farò la cornice col giorno e la scritta del giorno qua infine vado con il banner del weekend allora devo dire che quei tamponcini di inchiostro di aliexpress con tutti i colori sono veramente carini infatti inchiostrano molto bene allora prendo il mio brush pen io utilizzo questo dalla pentel i touch e vado a segnare i giorni allora questa la settimana che vado all'otto al quattordici la scritta weekend provo a farla con il brush pen della tumbo sul wash purtroppo la brush pen non non prende molto vediamo se riesco a sistemare ok dai la situazione più o meno è stata riparata come solito io devo fare qualche pasticcio se no non sono contenta allora ora vado a fare la decorazione allora voglio utilizzare questo centrino ovviamente non lo utilizzo tutto ok allora Grazie a tutti. Bene, questa è la mia decorazione, non ho scritto molto perché al momento non ho in programma nulla, quindi non ho da pianificare niente, anche qui ho cercato di fare qualcosa di scrapbooking, spero che vi piaccia il risultato, a me piace e ora vado ad inserirlo in agenda. Ecco ho aggiunto qui il compleanno di mio cognato perché mi ero dimenticata di scriverlo. Allora... Questa è la seconda settimana. Inserisco il mio segnapagina. E niente, spero tanto che la mia decorazione vi sia piaciuta, se è così mettete un pollice in su, lasciatemi un commento nei video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!